Eccoci, ciao Marek, sicuramente ci avranno un premio in sport. Senti, abbiamo l'impressione che quest'anno nascondermi, tenere il profilo basso, è sempre più difficile. Abbiamo sentito spesso pronunciare la parola su letto, sicuramente dai tifosi, ma anche da voi. L'impressione è che ci creiate davvero, nonostante, presumibilmente, visto quello che sta succedendo sul mercato, potrebbe aumentare la concorrenza con il Milan e l'Inter impegnati intorno alle gare. Sicuramente sì, vedendo la seconda parte dei campionati che abbiamo fatto, ci crediamo, perché abbiamo fatto la gennaio e la maggio un campionato incredibile, sappiamo che siamo forti e se ripetiamo molto le parti che ci sono fatti. Va bene l'audio? Non sarà pace perché i finalesi sono... Ha detto va bene l'audio? Non è bellissimo, ma... Perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Sì, come ho detto, se ripetiamo quelle performance che abbiamo fatto ci possiamo credere. Mike, recentemente Allegri parlando della differenza tra un gioco spumeggiante e spettacolare del Nato e quello forse più concreto della Juventus, ha detto, io parto dal presupposto che per vincere i campionati si debbano vincere almeno 7-8 partite sporche. Davvero questa è la differenza? Cioè il Napoli fino adesso per vincere si prevedeva essere un bel Napoli. Dovete parare a vincere anche quando non è così bene il Napoli. Io penso che il 9-7% è un Napoli e bello perché quello è solo due idee, quindi nel rivoluzione delle differenze. Noi siamo basati su quel gioco, su grande tattica, su nostra forza offensiva. Allora, ecco il nostro gioco con noi. Penso che abbiamo fatto Massimo l'anno scorso e abbiamo fatto 86 punti e arrivati in terzi. Non si vede così spesso. Corriere dello spot. Ciao Margaret. Margaret. Dove? Qua? Ciao. Senti, voi non mi nascondete più, lo hai confermato anche tu. Mentre invece il mister Zari tiene sempre un po' il profilo più basso, ma si nasconde, lo fa per scaramanzia, oppure è realmente così? Lo dovete convincere, l'avete convinto? Ci crede anche lui? Lui è il primo che ci crede. E' così. Mi ripeterò. Noi mi ha fatto vedere che possiamo votare fino alla fine, però per vincere qualcosa non si cosa l'era, è veramente pochissimo. Allora, quella sarà la differenza. L'anno scorso qualche punto l'abbiamo lasciato, ma se si vuole vincere qualcosa non si può. Devi fare un campionato, ci sarà la prima area per tutti i gol. Qual è il punto debole, secondo te, di questa squadra e invece il pregio maggiore? Non lo so, ci sono viste poche delle debolezze l'anno scorso, però come sempre si può migliorare. Allora, ci sono mancati qualche punti e quali hanno fatto la differenza. Abbiamo fatto una piccola crisi a ottobre fino al bagno e forse lascio quest'altro del campionato, ma... Come hai detto, per vincere qualcosa veramente sicuro si deve esagare il meno possibile. Radeo Fischis! Sì, in realtà sono Radeo Fischis, un po' di giocare Kalsic. Senti, Marek, 11 calciatori del Napoli hanno rinunciato alle ferie aggiuntive, sono quelli che hanno giocato in nazionale. Questo è un segnale, direi, molto forte, cioè volevate partire tutti insieme dal primo giorno, proprio perché volete provare a regalare un sogno fantastico a Napoli, alla città, ai tifosi. Sì, siamo venuti, ci hanno chiesto questo favore per la squadra, per la società, per tutto l'estero, noi come da grandi professionisti l'abbiamo accettato e sarà solo buono che abbiamo iniziato tutti insieme e ci darà una grande volta. Dieci anni di Marek a Napoli, ne hai visti di Napoli, non è il primo anno di A, la crescita, poi l'avezzi, poi hai visto quello di Cavani, hai visto quello di Iquain. Possiamo dirlo che questo è il Napoli più forte in assoluto di questa stagione, la continuità tecnica con Sarri e tutti i calciatori del anno scorso confermati. È il tuo Napoli più forte, Marek? Sì, l'ho detto il tuo anno scorso, è quello più forte, è quello che mi diverte, è quello che fa vedere un gran calcio. Il Pantino. Su questo aspetto della riconferma dei pezzi pregiati, del rinnovo di Mertensi, del rinnovo di Insigne, di questo famoso patto, se vogliamo così definirlo, che avete sancito l'anno scorso alla fine della stagione, c'è di ripartire tutti insieme veramente per cercare questo raguardo. E questa è la forza in più del Napoli, questo Napierà. È stata brava per la società, a mantenere tutti i campioni, tutti i colleghi che sono importanti per la squadra di attenuta. Allora ci dà ancora più forza, ci sentiamo ancora più uniti perché veramente per adesso non è andato via nessuno. E questo è solo conferma che questa squadra ora è arrivare al vertice. In Roma. Ciao Marek. Dieci anni di Napoli, come diceva Walter, hai avuto una gigantografia come Maradona, sei a due gol da Maradona, cioè sei l'idolo ormai di una piazza che ti adora. E soprattutto quanto sei soddisfatto delle parole dei tifosi del Milan, che ad un certo punto, per il caso di una Roma, hanno detto, prendi esempio da Amasic, che ha detto di no a Milan, ha detto di no a Juventus per restare legato ad una maglia importante che ancora viste. Mi sento orgoglioso di questo e sono molto contento di quello che ho fatto e delle mie decisioni che sono sempre rimasto qua e sono stato fedele a Napoli, ma l'ho fatto con grande piacere e con cuore. Allora sono soddisfatto di me stesso e volevo continuare così. Ci sono tre quarti che posso dare a rubire e saranno obiettivi bellissimi, ma quello più bello sarebbe quello di che stiamo parlando davanti a noi. Vibolo una. Ciao Marek, due domande. La prima. Qualche anno fa ci fu chi propose la 10 alla Rizzi. Oggi si parla molto di darla a Insigne, poi scopriamo che se non c'è il 12 gol e già ad agosto potresti battere il record di Marlona. Ti chiedo, preferiresti giocare con la 10 o ti farebbe piacere che venisse ritirata la 17? Qua seconda. 10, non sei dopo. Senti, poi ti chiedo, quest'anno c'è una particolarità in ritiro, l'ultima Michele l'ha fatto incontro di Chiebro, che è una squadra di Serie A. Volevo chiederti se ritieni questa sfida con Chiebro un test probante, in vista soprattutto del preliminare, che non dimentichiamo, è il primo grande e vero opinione della stagione. Sicuramente sì, molto importante per noi. Iniziamo sempre con squadre meno acclamate, alla fine ritirare, non giocare con quella di Serie A. Allora sarà un test molto importante per noi, dopo ci aspettano altre partite, ma questo ci darà il segnale che noi siamo arrivati alla fine dei ritiri. Canale 21. Mario, ti chiedo, ti ho un'assa, le prime due impressioni di questo nuovo giocatore preso dal Napoli, e poi ti chiedo, quanto cambia, anche per voi centrocambisti, nello sviluppo del gioco, avere mili con i remi a tex come prima volta? Sì, è un ragazzo giovane, con bella rapidità, una grande tecnica, però sicuramente le dobbiamo dare tempo ad adottarsi alla calcia italiana. Su Liga e Mertens penso che sono diversi, perché l'anti-aereo è una prima punta di Juvella rispetto a Gris. Gris l'abbiamo scoperto l'anno scorso, l'ha fatto benissimo, che nessuno forse di noi se lo aspettava, è tutto un grande campionato. Si sta bene con lui, perché il problema è la parola, lo stesso vale anche per la salatura per il mistero. Canale 8. Ciao, la NEC, lo dicevi prima, il vostro finale di stagione è stato fulgorante. Si riparte dai cinque punti di distanza dalla Juventus. Ti chiedo, è così più vicina la Juventus? Si avvertite questa sensazione all'interno dello spogliatoio e ancora mi aggancio a proposito di spogliatoio, si parla tanto di Pepe Reina e del suo futuro. Qual è il peso e l'importanza di Pepe all'interno del vostro spogliatoio? Quindi Juventus e Reina. All'inizio del campionato riparteniamo da zero, allora non siamo meno cinque, siamo alla pari e questo è buono. Se Pepe è un giocatore straordinario e il numero uno dello spogliatoio sarebbe importante confermare anche Pepe. C'è la calcio a Napoli, a ieri vedevamo. Sin dal primo giorno del tiro avete trovato uno striscione a mordocampo esposto dai tifosi, noi ci crediamo con il tre colore. Che sensazione avete provato nel vedere dal primo giorno di lavoro un messaggio così forte? Noi seguiamo il calcio anche in ultima canza, allora si vedeva che la gente ci crede fin dall'inizio e siamo contenti che siamo a vietta di noi che ci credono anche loro. Vi provo dietro. Senti, in rosa, quale calciature per il pacchetto centrocampisti tu credi sia in due reglie naturali? Difficilmente dirlo ma abbiamo giocatori a centrocampo straordinari e per appena li faccio giocare a tutti perché veramente sono conosciuti tantissimo da Marco Rovi, da Amadou, ma il fatto che mi piace più di tutti è Zieliński. Vediamo, più ore l'auguro e dobbiamo pensare come squadra e solo così si produce. Ci sono altre domande? Allora, l'ultima? E poi dobbiamo andare. E poi di Italia. Ma ecco, domandolo al campo, la camionale sinistra del Napoli sembra praticamente imbattibile. Il Napoli spesso fa questo senso di imbatti con l'Italia avversaria. Secondo te si può continuare così e supera tutto? Tu che lo limita dentro, avete questa sensazione di essere praticamente perfetti come una macchina in campo? Ho una sensazione che sia una squadra preparata da tutti i punti di vista. Dopo veramente il mister ci preparava una partita da grande e sembra veramente che siamo una macchina perfetta. Non è così, ma è una sensazione che è una cosa che veramente da giocatori ci divertiamo. Diamo Massimo e dopo si le fanno i frutti in campo. Io penso che con conferma di tutti noi del mister possiamo solo migliorare perché ci conosciamo, conosciamo il nostro gioco e possiamo andare avanti così. L'ultimista da PRA, ma è un po' adesso diventato l'idro dei tifosi del Napoli, soprattutto dei bambini. Ai bambini piace il divertimento che date e soprattutto quando giocate dimostrare divertirmi. Quanto influisce il clima di serenità, di tranquillità che c'è su Puglia 2, che c'è questo lavoro? A noi quello che traspalda l'esterno, voi forse, anzi a cui ci riaffiiamo, che quindi non è un po' a squadra. Date la sensazione che c'è un grande senso di serenità, di tranquillità, di tranquillità su Puglia 2. Sì, sì, è così. Penso che siamo veramente un gran bel gruppo, anche da dentro scogliatore e anche quello è molto importante per il tutto il resto. Allora, un bel gruppo e questo divertimento ci divertiamo finché. C'è un aggiunto del tuo nuovo sport? Una curiosità, abbiamo aperto parlando di studente, chiudiamo con una cosa che hai detto tu qualche tempo fa, hai detto che hai lasciato uno spazio libero sulla schiena per fare il tatuaggio, diciamo, più importante della torta. Ti chiedo, lo hai già prenotato per la fine dell'anno o aspetti per chiamare il suo? Non ho prenotato niente, ma sarà subito il giorno d'oggi. Grazie a tutti.